Ciao ragazzi, oggi volevo parlare di un gioco preso quasi al day one WRC 2010 per PS3 Sapete, sono un appassionato di giochi di auto Perciò non potevo farmi scappare l'occasione di comprare un gioco in licenza WRC Dopo i 4-5 anni che nessuno lo sfrutta Gioco fatto dagli italianissimi Maestron, nostro portabandiera Solo questo mi erita l'acquisto Soprattutto per me, che abito all'estero Fortunatamente non ho fatto la recensione a caldo Che volevo fare Fortunatamente perché il gioco a primo impatto Dà un'impressione totalmente sbagliata Pare molto limitato, molto brutto, un po' legnoso Invece, settando bene, mettendo a posto alcune cosine È molto molto divertente E finalmente un simulatore per console Perché il gioco è puramente un simulatore Perciò, se vi piacciono gli arcade Se vi piace la bagarre Non acquistatelo Se non avete un volante Non acquistatelo Perché perde l'80% del gioco Anche i Maestron stessi hanno detto che Tutto lo sviluppo del gioco è stato fatto col volante Perciò, palla la mano Fa cagare Il gioco presenta Due categorie di difetti Il difetto tecnico Ringratemi i pompieri Tecnico che È limitato dal fatto stesso Che comunque è una software house piccolina Perciò non si può aspettare una produzione Come Electronic Arts O come una polifoni Perché hanno budget limitati Numero di dipendenti limitati E altri difetti Che invece sono puramente Per me Stupidi Perché bastava un'attenzione Un pochettino maggiore E il gioco poteva risultare Ancora migliore Di quello che c'è Comunque Un applauso Alla Maestron Perché ha fatto veramente Un bel gioco Ma andiamo a vedere in dettaglio I pro e i contro Partiamo dalla base I menu del gioco Sono molto intuitivi Veloci Abbastanza easy Classica modalità Carriera Online Gara singola Accademia E i vari settaggi L'accademia è molto consigliata Perché è quella che vi fa prendere la mano Se non conoscete bene La guida su rally O per chi è già pratico Ma è un po' che non ci gioca Per ritornare In ambienti In mentalità Una piccola nota Io non capisco perché Nei giochi in cui fanno l'accademia O scuola Per i nuovissimi E soprattutto per chi non è capace Non facciano un piccolo tutorial Sui consigli Per i controsterzi Dove fare Come fare Freno a mano Cioè alla fine vi mettono Degli spezzoni di gara Che incontrerete nel gioco Ma alla fine Dovete solamente seguire Una linea In cui vi scrivono Rallenta Cedera Freno a mano Ma Non vi spiegano bene bene Cosa Cosa fare E infatti Ho fatto giocare A uno che non era capace Ha fatto Mezz'ora Di incidenti Testa a coda E alla fine Non aveva imparato niente Cioè Quello che imparava lì Era lo stesso Di quello che imparava Nel gioco vero e proprio Perciò E' un po' quasi Inutile Come detto E' un po' Per riprendere la mano Ma non molto per imparare Ma non è un errore Dei Milestone Ma è una cosa Che fanno Più o meno Tutti i giochi Mi piacerebbe dire Più o poi Un'accademia In cui veramente Ci sono dei consigli Utili Più che Un copia in colla Come sapete Io sono uno di quei Portamandiera Che dicono La grafica In certi giochi Non è tutto Ma Cazzo Ci sono anche dei limiti In questo gioco A primo impatto E' orrendo La macchina In sé E' fatta molto bene Lo sfondo Tutto quello Che c'è intorno E' da rifare E fare un esempio Ho addirittura visto In delle pause Sopra gli alberi Le ridine bianche Che delimitavano Lo sfondo Del cielo Dall'albero stesso Sembrava Una cosa incollata lì Un po' come South Park C'è E' molto molto Lasciata al caso Vabbè che la softrage Piccolina Va un pochettino Scusata Ma Qualche dettaglio in più Ci poteva stare Molto molto bene Considerando L'era in cui siamo Cosa che si nota Molto di meno Se giocate Con visita all'interno Lì Tutto sommato L'interno dell'auto Non è malissimo E Siete talmente Concentrate Solamente Sulla strada Che Lo sfondo Non lo cagate più Consiglio Giocate solamente Dall'interno Le ambientazioni Essendo un po' Ufficiale VRC Come per le auto Anche le ambientazioni Dovrebbero essere Quelle reali Ma in questo caso Non è proprio vero Perché Se alcune sono fatte Molto bene Altre sono un po' Troppo spoglie Prive di Dettagli E in alcuni casi Anche in quelle ben fatte Ci sono presenti Delle licenze artistiche Volute Espressamente Dalla milestone Per Variegare un pochettino Gli ambienti A me personalmente Non piace molto Come a molti appassionati Cioè Se io vado A farmi il culo Per vedere dal vivo Una gara Rally Voglio che quella gara Sia riproposta Anche nel gioco E non vedere gallerie Fallegnamerie Cancellate Eccetera Quando so che In quella pista Non esistono Personalmente Essendo un po' Lotto simulativo E che dovrebbe Riproporre la realtà Mi sarebbe piaciuto Un pochettino Più di realismo In stile Richard Basrelli Che Quello che esiste E quello riproposto Nel gioco Ma entriamo Nella parte calda In questo tipo di giochi La giocabilità E la fisica In sé È veramente La cosa più importante E quella che mi aspettavo Migliore In questo titolo Prima dell'acquisto Ormai In tutti i giochi di guida Attuali Anche in questo Ci sono Logicamente Gli aiuti Eliminati Tutti i vari aiutini Per curvare Frenare Tenere le linee Contro sterzo Il gioco Risulta molto simulativo E perciò Molto molto difficile La fisica È fatta molto bene Non stressante Come un Richard Basrelli Ma su console Era parecchio tempo Che non si vedeva Niente del genere Finalmente A mio modo di vedere I vari fondali Asfalto Sterrato Neve Pioggia Perciò bagnato Ognuno di loro Dà una diversa aderenza E vi costringe A guidare in modo Molto diverso Si sente bene La differenza Quando passate Soprattutto Nei percorsi misti Quando andate sull'erba La macchina rallenta O scivola Se toccate i muri La macchina Capita ogni tanto Che possa anche rimbalzare Ma spesso si ferma Perdete in velocità Vi cappottate Gli incidenti Sono fatti molto bene Sulla macchina Il danno Fisico Estetico Si vede parecchio bene Capita ogni tanto Che Una botta lieve Vi disintegra E una volta Un pochettino Più ignorante Vi danneggia poco Però Nella sostanza Sono fatti molto Molto bene Fatti bene Molto I danni interni Della macchina Quando toccate Quando andate a sbattere Radiatore Core, gomme Carrozzeria Ne risentono E lo vedete In un quadratino In basso Che vi da tutti i vari danni A giornate Tempo su tempo Cosa simpatica Nelle speciali Gare Una dietro l'altra Avete un'ora Per riparare I danni fatti Se Il danno è troppo importante Vi rimarrà Anche nella gara successiva Questa è una cosa carina Che su console Come ho detto E da molto Che non si vedeva Si vedeva i tempi Se non erano Dei vecchi Colin McCree Su play 2 Non Quella specie di Fuoristrada Che dirte In questo gioco Ad esempio Se è una sospensione andata Ed è molto semplice Che accada La gara Per voi è finita La macchina Vi penderà Tutti da un lato E la guida Sarà impossibile Da fare Se a questo punto Spegnete il video E iniziate a giocare Pensate che Sparo un sacco Di cazzate Infatti il feeling Sarà molto diverso Da quello Che sto spiegando Adesso Questo perché Come ho detto Gli inizi E' tutto Da accettare Le impostazioni Di default Della Milestone Sono per me Completamente sbagliate Non so con che volante L'abbiano accettato Ma Su un G27 Come il mio E' tutto incasinato Perciò Dovete prendere Un pochettino di pazienza E lavorarci Un pochettino su E qui per me Inizia il vero L'atto negativo Del gioco Non tanto i settaggi Della macchina Che tutto sommato Potevano essere meglio Ma sono fatti bene Il gioco risponde anche bene Ai cambiamenti che effettuiamo Ma quanto i settaggi Delle volante stesse O dei controlli Sono sì mappabili Tutto quello che vuoi Ma il settaggio in sé Dei livelli E' fatto male E' fatto male per me E manca di Alcune sezioni In parole povere Siete limitati A 5 settaggi E basta E di questi 5 Sono tutti inutili Perché 3 sono Per le zone morte Volante Pedale freno Pedale acceleratore Chi cazzo gioca Con le zone morte Basta mettere Questa opzione 2 sono Sulle linearità Dei vari pedali Onestamente Linearità Bastava mettere Gradi volante E sensibilità Acceleratore freno Tutto qua Poi vabbè Non hanno messo Altre cose importanti Come i settaggi Ma una cosa fondamentale Che non hanno messo E' il force feedback stesso Ne hanno impostato Loro uno Di default Ed è quello Per tutti i volanti Onestamente Giocando col mio G27 Questo force feedback E' molto Molto Sotto tono Io onestamente Non sento sempre Cosa succede Sotto la mia macchina Virtuale E spesso Questo comporta Dell'incertezza Alla guida Degli errori Perdo l'aderenza E non lo so Vado in testa coda Ma non ho saputo Quando ho perso Aderenza E per recuperare Onestamente Per un gioco Di simulazione Queste cose Per me Sono importanti Quanto la fisica Stessa nel gioco E' un pollice Verso Sotto questo aspetto Verso la Malestone Con alcuni Settaggi Riesci a compensare Ma ripeto Sono troppo Poco i settaggi E Quelli che ci sono Sono onestamente Parziali E non proprio Efficaci La ragione per cui Consiglio l'acquisto Del gioco Su PC Intanto per un risparmio Economico Sull'acquisto Poi perché Su PC Ci sono comunque Le opzioni Fuori dal gioco Per Settare Quei valori Non presenti Nel gioco stesso Che Vi rendano L'esperienza Ancora migliore A me Io non ho la possibilità Non sono un PC player Solo sul PS3 Mi diverto Ma Poteva essere meglio Lascio l'ultima parte Del video Alla modalità carriera Conestamente Sto apprezzando Sto giocando Sclusivemente a questa Parti da una macchina Sfigata Una C2 Per Man mano Andare avanti Con le categorie Comprando Facendo soldi Con nuovi sponsor Dipendentemente Da come guidate Molta personalizzazione Mi sto divertendo Parecchio La carriera Ripercorre La logistica Effettiva Del mondiale Di quest'anno Non tutte le tappe Sono presenti Perché Mediamente Sono 11 tappe In un WRC Qui ne hanno 6 Ma ahimè Un altro lato negativo È che tra queste 6 Sono presenti Le tappe Inverse Ripercorrendo All'indietro Il tracciato Cosa che non esiste Nel rally Per gli appassionati Un'altra cosa Negativa Onestamente Avrei perso Un po' di tempo A rimappare Qualche taccetto in più Se proprio Volevano fare Tutte queste gare Longevità Molto Molto alta Come ho detto Perché Vi terrà molto impegnato Questa carriera Longevità Migliorata Molto Anche con l'online Che è fatto Molto molto bene Gare interessanti Logicamente Uno alla volta Potete parlare Con gli avversari Tramite microfono Onestamente È molto Longevo Molto molto Ben fatto Qui concluderei Come ho detto Il gioco Ha molti pregi Ma ha molti difetti Consideriamo anche Come ho detto Gli inizi La software house Ha dei limiti Logici Ma consideriamo Anche che È il loro primo Lavoro Su un rally Perciò Sicuramente Han detto Che Ripercorreranno Il vrc Anche nei prossimi Anni Con un'uscita Quasi annuale Sfrutteranno Meglio La licenza Lasciamogli in fede Hanno fatto Un ottimo Primo gioco Un'ottima Base di partenza Secondo me In futuro Ci potrebbero essere Molte molte Sorprese positive Qui vi saluto Ciao a tutti Buon divertimento Acquistate il gioco Vale molto Magari Versioni pc Risparmiate Magari Non subito Perché 70 euro Onestamente Forse tutti Non li vale Ma È un gioco Che merita l'acquisto Godibile molto adesso Ho visto il rinvio Di Gran Turismo 5 Per quelli che come me Hanno voglia di guidare GT5 Gli aveva messo un po' Quella adrenalina Ciao a tutti Buona giornata Piccola postilla Le macchine storiche Del gruppo B Che dovevano essere presenti Fin dagli inizi del gioco Effettivamente ci sono Solamente sulla versione pc Dicevano che lasciavano Un dlc Per i consolisti Ma alcuni Mi è compreso Hanno trovato un codice All'interno del gioco Che permette di scaricare Direttamente E gratuitamente Le macchine Dicono che In un mese Anche chi non ha il codice Potrà scaricarle Gratuitamente Nel gioco Onestamente La domanda è Ma sul pc c'è Perchè non mettere subito Anche sul console E soprattutto Perchè alcuni hanno Il codice E alcuni no E Un'altra domanda Ma Mettere direttamente in download Non era mica Una limited edition Quella col codice Con questo Vi risulto ancora Un interrogativo in più Ciao ragazzi Grazie 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 Grazie